Tra sabato e domenica si sono giocati due incontri dei play-off e una sfida dei play-out, che ha decretato la retrocessione in prima categoria del Morazzone. Andando con ordine, sabato pomeriggio a Cairate, Union Cairate e Gavirate si sono spartiti la posta in paglio e al triplice fischio la partita di semifinale play-off è terminata sull'1-1. Il risultato di parità premia l'Union Cairate, che si qualificano alla finale dei play-off contro la Rodense in virtù del miglior piazzamento, alla fine della regular season. Per il Cairate dunque è terminata sabato la stagione, che ha visto la compagine Rosso-Blu arrivare per il secondo anno consecutivo ai play-off. Tra Union Cairate e Gavirate succede tutto nel secondo tempo. Al gol dei padroni di casa, Dibà, risponde Bertola per il Gavirate. La formazione ospite tenta poi il tutto per tutto in un finale incandescente, ma non trova la rete della vittoria. Il match è costellato da molti falli e le munizioni totali sono ben 12. Aspetto che non sfuggi a Fabio Fumagalli, direttore generale del Gavirate. Una gara maschia come me l'aspettavo, ho giocato abbastanza bene entrambe, non si poteva vedere il grande spettacolo. La posta in paglia era troppo alta. Un primo tempo dove mi siamo piaciuti, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, ma anche secondo. Peccato per quel gol. Sapevamo che prendendo gol era veramente difficile. Poi il gol di Bertola è venuta una bellissima azione, l'abbiamo riaperta. Poi è chiaro che loro sono esperti e mi permetto di dire che la gestione globale dell'arbitro, non so quanti falli ha fischiato, però veramente troppi secondo me. Dall'altra parte l'Union Cairate festeggia la qualificazione alla finale. Stare un po' più attenti perché qualcuno oggi ha sentito un po' l'approccio alla gara, dobbiamo evitarlo, possiamo esprimere di più, abbiamo commesso alcuni errori, potevano essere fatali e quindi io credo che adesso tra le esperienze che abbiamo fatto oggi, qualche errore che abbiamo fatto e comunque aver portato a casa il risultato, secondo me dobbiamo essere fiduciosi per la prossima gara. Il prossimo avversario dell'Union Cairate sarà la Rodense, alla quale è bastato il risultato di 1-1 per accedere alla finalissima dei play-off, che si disputerà a Cairate nel prossimo weekend. La vincente tra le due squadre sfiderà l'Alcione, vincitore della Coppa Italia di promozione, e chi avrà la meglio accederà in eccellenza e seguirà la già promossa Varesina. La partita tra Rodense e Roncaglia è equilibrata e sono pochissime le occasioni. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva al 39esimo grazie al giovane dell'Anna, a cui risponde nel secondo tempo in mischia Caini. Ma alla Roncalli il pari non basta. Il pareggio non basta nemmeno al Morazzone, che a Uboldo saluta la promozione e retrocede in prima categoria. L'1-1 firmato Gasparini e Vezzoli premia infatti l'Uboldese, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Ai ragazzi allenati da Mr. Leo riesce l'impresa di salvarsi dopo un pessimo girone di andata, e una costante risalita però nel ritorno.